Parliamo di stadio perché in tanti ce lo chiedono. Ovviamente noi qui siamo al 14 gennaio e dobbiamo dire che non è successo ancora nulla. Sentiamo che cosa ha detto al nostro Vimal il sindaco e poi ne parliamo in studio insieme a voi. Sentiamo. Quali novità ci sono per lo stadio? Dunque stiamo lavorando con il credito sportivo, stiamo lavorando con vari fondi per cercare di realizzare nel più breve tempo possibile gli adeguamenti previsti. È chiaro che sono adeguamenti per i quali ci vorranno anni, però stiamo ragionando per il nuovo progetto esecutivo dello stadio, l'adeguamento a 16.000 e poi ci sarà un bando per il primo lotto dei lavori. Ora stiamo cercando ben appunto la soluzione tecnica, avere la certezza dei tempi che la federazione, la Lega Calcio impone e poi le procedure conseguenti. Si parte da un progetto esecutivo, voi sapete abbiamo fatto lo studio di fattibilità, uno studio di fattibilità molto bello, da qui però bisogna poi avere il progetto esecutivo e l'inizio dei lavori magari a fasi, a lotti perché bisogna trovare le coperture finanziarie che sono importanti in questo caso. Mi sembra di capire dalle parole del sindaco che in realtà la via sia quella di trovare sostanzialmente dei finanziamenti senza il supporto dello Spezia. D'altronde, devo dire onestamente, adesso non voglio lanciare una freccia a favore della società, ma mi rendo conto per quale motivo lo Spezia dovrebbe spendere più o meno 20 milioni di euro per costruire uno stadio... Che non ha ricavi. Che non ha ricavi. Sinceramente, ma per quale motivo dovrebbe farlo? Al di là che era dovere di tutte le amministrazioni che ci sono succedute in questi anni creare i superimposti per almeno costruire uno stadio decoroso. Però, ripeto, non riesco a capire quali potrebbero essere i vantaggi dello Spezia di mettere lì 20 milioni di euro per costruire uno stadio senza nessun tipo di... Ora, o c'è un progetto articolato che io vedo difficile perché non so che cosa si possa costruire in più nell'area del picco, quindi non so, ristoranti, centri commerciali, insomma, siamo sempre lo stesso. Quindi lo trovo estremamente difficile. Certo è che però è una lama a doppio taglio perché da una parte, se ho capito bene, bisogna presentare un progetto esecutivo che vuol dire un progetto approvato ma anche finanziato perché altrimenti la Lega non ti consente l'autorizzazione. Questo vorrebbe dire per l'amministrazione dimostrare che a questo punto siamo costretti di andare a giocare a Cesena o in un altro. Quindi sarebbe uno smacco incredibile. Dall'altra parte anche la società avrebbe il suo svantaggio perché poi non continuerebbe a giocare. Qui una selezione un po' particolare.